Ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Nero come l'inferno, forte come la vita. Il caffè ti tiene sveglio e fa stare più allegro e qualche volta evita i dispiaceri. Onore de Balzac diceva, il caffè giunge nello stomaco e tutto mette in movimento. Le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito sul campo di battaglia e i pensieri geniali si precipitano nella mischia e vengono fuori. Fatti un sorso, il caffè è un amico. Il caffè giunge nello stomaco Il caffè giunge nello stomaco